salve a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come controllare un pc da un tablet o un dispositivo android iphone da un telefono basta scaricare questa applicazione tip viewer sia sul pc che su tablet telefono come potete vedere e adesso vi faccio solamente vedete che dal tablet posso controllare il pc quindi faccio così guardate un po la faccetta come si muove che è l'icona c'è la precettina qua quindi adesso clicco qua sopra posso anche per esempio tu stai non so da 100 metri da casa oppure non so stai sul divano stare nel soggiorno e quindi e vorresti spegnerlo ma ti sconci di alzarti dal divano per andare a spegnere il pc quindi direttamente dal tablet fai così adesso resta il sistema ok molto semplice mi raccomando dispositivi devono usare la stessa connessione wifi in casa quindi il pc deve essere collegato alla wifi al modem della casa e anche il tablet e il telefono ok quindi innanzitutto usciamo dall'applicazione tablet quindi mi basta fare su x non serve che acquistiamo la licenza ok quindi qua sopra scarichiamo il programma lo scaricate e una volta scaricato andiamo sul programma e qui c'è il tuo id un codice che adesso ho censurato la password da inserire direttamente sul telefono tablet e che facciamo andiamo sul dispositivo di controllo del team viewer lo potete scaricare direttamente da play store ci entrate dentro e all'interno c'è scritto dispositivo di controllo remoto vi faccio vedere non so se si vede ecco qua qua sopra ok allora che fa dispositivo di controllo remoto e mettete questo id quindi nel dispositivo quindi nel tablet quindi metto questo controllo remoto password questa qui quindi metto la password ok a posto ok e così facendo abbiamo collegato il pc al tablet quindi adesso posso controllare il pc da tablet quindi io posso anche giocare però se avete anche una buona connessione ve lo dico potete anche giocare da tablet ok tipo non so porzo potete però questa cosa non so se si può fare comunque che abbiamo qui che facciamo vado su chrome ok vado su chrome ok possiamo anche selezionare due scherzo io adesso visto che ho due monitor ok mi ha messo il secondo monitor metto il primo monitor ok e niente ragazzi quindi se questo video è stato utilissimo mi raccomando un attimo vado a fare questa cosa iscrivetevi al canale se non avete un mouse usate il tablet è una cosa bellissima chiudiamo oddio iscrivetevi al canale ragazzi per altre guide tutorial come potete vedere ci ho fatto anche parecchi tutorial quindi cavolo come si scende qua sotto è un po' è complicato comunque comunque ragazzi se vi deve stato utilissimo a scaricare questa applicazione e controllare il vostro pc da tablet lasciate like iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao